Benvenuti a sto cazzo video, comunque ieri sera la Champions League ha messo in regola parecchie partite dall'Atalanta che ha aperto il G1 a Juve con la prudezza di ribala con Ronaldo ancora non in condizioni quindi bisogna aspettare Ronaldo però alla fine l'italiano fino a adesso la Juve è passata poi lì noi interisti bisogna soffrire come al sol, bisogna battere assolutamente questo cazzo da Slavia a Praga che con noi fanno tutti i fenomeni l'anno scorso l'anno scorso la Stella Rosa che cazzo squadra è una squadra da merda che si mettono a rompere i coglioni, questo squadra che alla fine devi vincere 2-3 a 0 le partite vanno a ammazzare subito, vanno direttamente sacrificate e vinte insomma, l'alanta vince 2-0 il ricorre di Muriel poi alla fine ha fatto una discreta partita, poi la Juve pure nel primo tempo ha giocato un'ottima gara fra sieggio, possesso palla tutto però invece quella alla fine la cosa, l'Atletico Madrid come al solito difensivista e ha perso nuovamente però ha vinto tutte le squadre, poi c'è il pareggio del Manchester City clamoroso in casa contro lo Schattar 1-1, poi altri Bayern ne rifila 6, la Champions League sono partite fino a quando ci passiamo la prossima per il Napoli stasera, speriamo che tutte le italiane passino il turno però non sarà semplice, comunque scrivete questa cazzo di pagina, cliccate la campanella, scrivetevi per che cazzo di pensate ci vediamo al prossimo video pure il Tottenham di José Mourinho verdeva 2-0 la ribaltata clamorosamente 5-2 4-2, una prova di forza ma passa sempre svantaggio il Tottenham poi riesce a ribaltare, comunque se vedete al canale per non sapere che cazzo ci vediamo al prossimo video Voi voi voi